Bella a tutti ragazzoli e bentornati in questo nuovo video di minecraft Io sono maullo941 e oggi siamo tornati col secondo appuntamento Io non capisco perché sento degli scheletri signori Non capisco perché sento degli scheletri quando Non ne vedo neanche una dista Che cos'è quella cosa signori? Attenzione iniziamo il video col botto signori Che cazzo non è quella cosa? Fermi tutti è ancora prima di partire col video Nooo che cos'è una barca? Subito così la barca abbandonata Fantastico abbiamo la barca dietro casa Una barca leggermente affondata dietro casa Spettacolo allora fermi tutti Abbiamo bello che ve lo fa tutto un altro tipo di video Facciamo la copertina al video Ok abbiamo trovato la barca Spettacolo signori abbiamo anche la copertina al video Ottimo così bello perfetto Signori allora prima di partire con questo video Vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like per i commenti Per il supporto che date al canale e alla serie Vi ricordo di iscrivervi sui social Mi trovate come maullo941 Sia su Instagram che su Facebook E dove vi aggiorno su quando escono i video E su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che sull'altra Quella viola In descrizione trovate i link anche dei canali Che sono abbonati al mio canale E hanno guadagnato il diritto di trovarsi lì praticamente In descrizione Detto questo signori non perdiamo altro tempo E partiamo con il video Allora signori sta calando la notte La notte buia Sta calando intorno a noi Quindi recuperiamo altro legno Che erano rimasti completamente senza E sperando che poi Otteniamo anche dei sapling Per piantare degli alberi Perché siamo in una zona un poco Arida di alberi E questa cosa non va assolutamente bene E come direbbe Papa Maullo L'aridità di alberi non è un bene Ci sono altri rami che ci possono rompere le scate No l'alberello si sta rompendo Quindi recuperiamo questo legnetto di qua Torniamo verso la zona dove dovremmo andare a dormire Creiamo subito un letto E passiamo la prima notte Signori che la vedo già brutta Già ad ora subito La vedo bruttissima Dobbiamo subito crearci un letto E addormentarci Perché qui siamo nel deserto E può spawnare l'impossibile Da un momento all'altro Allora veloce 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 Nei commenti signori Ditemi di che colore Dobbiamo fare il letto di questa serie E così Seguire i vostri commenti E ci faremo un bellissimo lettuccio Di colore Come volete voi Per fortuna Siamo riusciti a dormire Nel nostro isolotto Bellissimo Ok Le tartarughe stanno conquistando Il nostro isolotto E questa cosa non va bene Va bene Va bene Dettagli Dettagli Signori Allora Cosa facciamo in questo primo video Signori Allora in questo primo video Noi abbiamo deciso Che la nostra casa Sarà su questo isolotto di qua Nella zona lì Della landa ghiacciata Che vedete adesso In profondità Molti volevate fare La casa Vi avevo chiesto Se eventualmente Fare la casa lì Molti mi avevate proposto Di fare la casa lì Ma io preferisco Seguire il consiglio Di chi È d'accordo A fare la casetta Su questo isolotto Spiaggioso Abbandonato Nella landa lì Ghiacciata In fondo Lontano Voglio metterci Il portale Del nether Signori Voglio fare Tipo una sorta Di strada Sull'acqua Che ci conduce In mezzo A una di queste torri Ghiacciate Con all'interno Il portale Del nether Se noi Se poi riusciamo A fare anche Molto illuminato Potrebbe venire Una cosa Graziosa Una cosa Graziosa Cosa facciamo In questo video Allora Casa nostra Sarà su questo isolotto Signori Ora Mi piace Questo fatto Che già ci sia Questa pedana Di qua Uno Due Tre Quattro E cinque Perfetto Allora Da qui partirà Un ponticello Direttamente dall'altra sponda Un ponticello Per fare il ponticello Ci servono le scale Quindi facciamo Un po' po' di scale Non facciamo tutte scale Perché se no Intanto facciamone Quattro Mi basta E ne mi avanzano Recuperiamo il resto del legno Anzi facciamo così Così facciamo anche Degli slab Che mi servono Che mi servono Mettiamo il primo gradino Signori La nostra serie Sta iniziando Mettiamo il primo gradino Qui Perfetto E poi signori Con calma E sangue e fredda Andremo anche a sostituire I vari legni Vedremo un attimino Come inventarceli E Cosa ho fatto Signori Ho messo tutti i gradini Ma sono un pirla Ma sono un pirla Sono tutti i gradini Messi sotto sopra Questi Ma io lo dico So scemo So tarato Signori Sono proprio tarato Sono proprio tarato Quando si dice Proprio essere Inutile Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Completiamo questo ponticello Se riesco a farlo Nell'altra direzione Ok Forse 18 slab Non mi basteranno Ma nella vita Comunque Completo il ponticello Signori E vediamo Cosa ne esce fuori Ok Allora Abbiamo il nostro ponticello Bruttissimo Ma ce l'abbiamo Anche perché Arriviamo proprio In faccia al deserto Non è la cosa più bella Del mondo Leviamo un po' di sabbia Così Magari un giro veloce Un giro veloce Di questa sabbia La possiamo levare Così quantomeno Mi posso un attimo Muovere un poco meglio Distruggeremo la pala Subito così All'inizio Senza crearci troppi problemi Però va bene Per ora per fortuna Il legno ce l'abbiamo A proposito di legno Signori Dobbiamo andare A piantare Questi due sapling Che abbiamo Sperando che l'altra Quercia Ce ne abbia dato Degli altri Perché se no Siamo un attimino Nella cacca Nella cacca Decisamente nella cacca Allora Che dire Cosa volevo Allora Questa sarà una serie Molto molto spartana Signori Non ci saranno Pixel art Zone di Sarà col punto Così Molto veloce Molto diretto Molto veloce Senza indugio Senza problemi Senza perdere tempo In costruzioni strane Uove giganti Facce di mucche Per indicare Che siamo vicino Alla zona delle mucche Una cosa molto veloce Signori Molto libera Molto Molto free Molto Molto tranquilla Appunto per questo Noi dovremmo avere Delle canne da zucchero Perfetto Ok Visto che lì Ci sono delle canne da zucchero Intanto continuiamo Questa piantagione Di canne da zucchero Su questa sponda di qua Che dico Attualmente Non mi servono nulla Le canne da zucchero Ma un domani Mi serviranno Perché se vogliamo Fare il ponte ghiacciato Dico Dobbiamo per forza Avere un piccone Il ponte ghiacciato Sì ho detto giusto Dobbiamo per forza Avere un piccone Con sick touch Cosa che in questo Non abbiamo Mi dai un poco di sabbia Così la spardiamo Anche un poco Continuiamo qui Che non mi piacciono Le cose fatte così In aria Poi dovremmo metterci Anche dei supporti A questo ponticello Che poi allargheremo Tranquilli Lo allargheremo Ve lo prometto E piantiamo un poco Di alberi così A casa signori Perché la legna È fondamentale Cos'è? Un coniglio Ah ci sono i conigli Qui non ho mai coltivato Conigli I conigli non si coltivano I conigli si allevano I conigli non si coltivano Mi ha dato qualche Sebring Bravo ragazzo Dai così Piantiamo Piantiamo Che mi servono alberi Mi servono alberi Porca di una miseria Dai così A posto Signori Allora Allora Giunge un bel dubbio Io come prima cosa Noi siamo anche a corto Di cibo Quindi io direi Abbiamo dei semini Abbiamo solamente un semino Dico con un semino Che ci fanno noi? Assolutamente nulla Abbiamo bisogno di Enormi quantità di semi Anche perché non abbiamo Manco il bonil Per far crescere le piante Quindi Iniziamo ad organizzarci un poco Per avere un po' di cibo Velocemente Magari 10 semini Vabbè 10 semini mi possono anche stare bene Andiamo a fare una bellissima pala Andiamo a fare una bellissima zappa Non una pala Non dobbiamo fare una pala Non una zappa Cosa ci fa? Quell'erba lì Vabbè Poi la analizzeremo La pulizia della mia zona La faremo con più calma Allora Fammi una pala Non è una pala Ma è una zappa E ancora qualche problema Riconoscere le cose E fammi anche una pala Perché siamo rimasti a corto di pala Perfetto Ok Facciamo così Facciamo così Perfetto Andiamo a seminare i nostri semini Signori Così avremo un po' di Queste me le posso recuperare Scusatemi Queste Grazie Così otteniamo anche dei segni Questi arbusti così Sì fanno proprio brutti Dai così Ok Abbiamo preso tutto Abbiamo fatto pulizia totale Sì Perfetto Allora Andiamo qui vicino a questa zona Che è vicino all'acqua E facciamo Quanto ne abbiamo? 10 3 4 5 6 7 8 9 E 10 A posto Semina come se non ci fosse un domani Perfetto Abbiamo fatto anche il progresso Dell'agricoltore Bravo Qui ci arriva sì Perché l'acqua è arrivata lì Quindi perfetto Qui cresceranno tutte le nostre piantine Di Di come cavazzoloro si chiamano Di semi Così avremo pane illimitato Signori Avremo pane illimitato Ho ottenuto un altro semino Questa me la levi questa gravel Facciamo un attimo di pulizia Qualc'è l'ho della terra Io da poter sfruttare No Ok Andiamo a recuperare della terra Da qualche parte Tipo qui Che bella questa terra Ricordiamo questi blocchi di terra Che non servono in questo momento Qui a niente E E così abbiamo Anche dello spazio Per poter mettere Questo fiorellino Sinceramente non mi serviva Però va bene Ormai l'abbiamo preso E va bene Lo si Leviamo questa gravel Con la nostra bellissima pala Uno Due Tre Quattro Cinque Mettiamo Andosta la terra Andosta la terra La terra sta qua Mettiamola qua Ok Iniziamo a piazzare un po' Di terra Perfetto Signori Ok Così possiamo levare questa gravel Che è inguardabile La selce è importantissima Spero che il mio tizio L'abbia recuperata Signori Nel prossimo video Andremo a esplorare la barca O ci andiamo oggi a esplorare la barca Ci andiamo oggi a esplorare la barca Io direi di sì Così facciamo qualcosa di utile E direttevole In questo video No? Abbiamo guadagnato altri due semini Fuma Mangia Dai Semina Ok Andiamo alla barca signori La selce La selce Recupera la selce Perfetto Andiamo alla barca signori Easy busy Andiamo alla barca Andiamo a vedere cosa ci frutta la barca Abbiamo spazio nella cosa? Sì Spazio nell'inventario Ce l'abbiamo Vediamo la nostra barca Cosa ci regala Subito così Senza problemi Senza problemi Entriamo qua dalla porta Da dove è la porta? Di qua Ok Aria Riusciamo ad aprire quella cassa? Ok Delle piume Va bene La mappa del tesoro Signori Questa è molto utile Io sto affogando Non va bene questa cosa Pigliamo aria Ok Qui non sembrerebbe esserci altro Riesce a salire Perfetto Che poi che botta di fortuna Signori La nave Cioè È mezza È ancora sana Peccato Dobbiamo andarla a rompere Eh vabbè La devo rompere Rompi questo Ok Scendi sotto Aiai Mi sono fatto male Apri questa cassa Euuu Ferro e smeraldi Signori Mamma mia Che inizio col botto Abbiamo già il ferro Il ferro Sapete che mi serviva Per farmi la mia idea Di casetta Che mi volevo fare Spettacolo Grande così Signori Grande così Allora Forse no Aspettate Forse scendiamo ancora No È tutta qua la nave Sì La nave è tutta qua Non c'è altro Signori Non c'è altro Non so dove possa essere L'altra cassa Perché qua sotto Già ci siamo entrati E una cassa Già ce la siamo portati a casa Forse dovremmo rompere Il resto della nave Ma mi sembra un peccato Rompere già il resto della nave Così Va bene Fermi tutti Dall'alto del nostro vascello Signori Aspettate Mi metto magari In maniera un po' più collina Così Abbiamo un totò di cose Un popo di cose Dai 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 Dobbiamo continuare a assistere Questa serie sta andando bene Signori Questa serie sta andando bene Detto questo signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo episodio E un prossimo contenuto Bella raga Ciao